con questo mi sembra quasi mma è interessante pure questo però preferisco ma non c'è non c'è c'è dietro al collo non ci sarà non c'è dietro al collo non c'è dietro al collo non c'è dietro al collo Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché lei con 12.000 c'è una batteria perché fa schifo il basso. È arrivato io. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.